a tavola ci sono tanti tanti alimenti tante cose che mi piacciono in generale e sono cresciuto veramente con la passione per il latte ho sempre bevuto tantissimo latte e sicuramente nella colazione c'è ma c'è anche in altri momenti della giornata bevo magari latte nelle merende bevo latte prima di andare a letto se ho voglia quindi secondo me è una delle cose che mi piace più